Ben trovati ad un nuovo appuntamento di Cilento Channel con il programma Saporito. Per questa puntata ci troviamo presso Palazzo Dogana Resort, situato sulla storica spiaggetta della Marina di Agropoli. A preparare un piatto tipico cilentano è lo chef Marco Parmisciano di Palazzo Dogana. Allora, chef, il piatto che andrà a preparare in cosa consiste? Sì, sono delle alice impaccate, ripieno con provola del Cilento affumicato. E gli ingredienti di questo piatto li vogliamo anche illustrare ai telespettatori? Certo, delle alici del paese ovviamente, con un po' di provola, farina, uova e pane grattugiato. Molto semplice, con un po' di salsetta con olio e limone, molto semplice. Benissimo. E mentre il nostro chef prepara questo gustosissimo piatto, vi voglio presentare Simone Di Napoli, responsabile del ristorante Palazzo Dogana. Allora Simone, commentiamo un po' questa ricetta. Come mai avete scelto proprio di realizzare un piatto a base di alici? Beh, innanzitutto buongiorno a tutti i telespettatori. Abbiamo scelto questo piatto perché abbiamo un po' di riconducibilità storica. Allora, è un piatto che mi piace molto chiamarlo atavico. È come i nostri nonni che ci raccontano, soprattutto quando eravamo piccoli, alcune storie e ci rimangono impresse nell'infanzia. Così un piatto del genere ci potrebbe raccontare porzioni della nostra storia. Si parla di gastronomia con, diciamo, qualche pizzico di antropologia. È un piatto che si dice, si ritiene, che possa risolvere al Medioevo. Perché? Nel Medioevo si sa che la carne era destinata ai grandi feudatari, ai grandi signori, mentre invece il pesce, soprattutto questi di piccole dimensioni, era, diciamo, un po' lo scarto del cibo. Il problema consisteva nel rapporto nutrizionale. Diciamo, le persone del vassallaggio avevano a disposizione questi pesciorini con poco valore nutrizionale, dovevano legarlo a qualche cosa. Formaggio, un valore nutrizionale abbastanza alto, e del pane grattugiato. Pane grattugiato perché? Era sempre gli avanzi dei signori. Il pane fresco era destinato al feudatario. Tutti gli avanzi venivano presi, venivano conservati. Dopo due giorni venivano tritati e venivano create, diciamo, queste composizioni. Noi sappiamo che le alici è un pesce azzurro tipico del, diciamo, tutto il mare italiano. Tutto l'anno si trova, diciamo, soprattutto nell'Adriatico. Nel Tirreno abbiamo, diciamo, soggiochiamo sotto alcune stagionalità. In particolare noi qua abbiamo, se posso permettermi di dirlo, il presidio slow food proprio sulle alici di Menaica. Bene Simone, intanto il nostro chef procede con la sfilettatura, giusto, delle alici. Ecco, vogliamo spiegare questo passaggio che è importante anche per far capire da casa come si effettua. Certo, la sfilettatura consiste nel prendere l'alice cruda. Naturalmente prima è stata privata della testa per una questione di presentazione. Si poggia su un tagliere, si leva la lisca centrale, si poggia un poco di... Noi abbiamo scelto della provola, diciamo, semistagionata del cilendo che mantiene anche la consistenza durante la frittura. Si poggia un altro filetto sopra e come sta facendo adesso l'eseguo di più chef, si pone prima nella farina di tipo 00, poi nelle uova sbattute precedentemente naturalmente e poi nel pane grattugiato. Benissimo, sottolineerei anche la presenza dell'olio extravergine d'oliva. Ecco, perché la scelta proprio dell'olio extravergine d'oliva è magari non quello di girasole? Sì, questa è una scelta, diciamo, che non rientra in canoni economici, piuttosto nel mantenimento della cottura. Naturalmente l'olio deve essere bello caldo. Noi poi, tra l'altro, qui abbiamo a disposizione il parco del cilendo degli olivi e ci freggiamo della DOP sull'olio extravergine d'oliva. Scegliere l'olio extravergine d'oliva nella frittura serve semplicemente a donare quel gusto in più che l'olio di girasole non permetterebbe durante la cottura. Mentre per quanto riguarda le alici c'è un presidio slow food su questo pesce, insomma, che è un pesce azzurro ed è un pesce importante anche per la salute e molto salutare. Parliamo anche di quest'altra particolarità. Sì, riprendo sul discorso che è appena finito, è un pesce della salute, è ricco di omega 3 proteine e molti studi scientifici hanno mostrato che può aiutare, naturalmente, un'assunzione, diciamo, durante la settimana, secondo anche quando ci indica la dieta mediterranea. Se ne parla, se non sbaglio, di 20 grammi a settimana. 20 grammi a settimana può aiutare o può adduviare con le malattie cardiovascolari. Naturalmente sono studi sperimentali scientifici, ma sappiamo, perché essendo la patria della dieta mediterranea, che mangiare sano mantiene il corpo sano. Simone, c'è un'antichissima tecnica di pesca, un tempo diffusa su tutte le coste del Mediterraneo, che, tra l'altro, viene effettuata da un gruppo di pescatori ancora qui nel Cilento, precisamente a Marina di Pisciotta. Ecco, vogliamo parlarne di quest'altra particolarità del Cilento? Certamente. Stiamo parlando delle alici di Menaica tutelate dal presidio Slow Food. I presidi non sono nient'altro che l'organo attraverso cui noi possiamo tutelare alcune produzioni, come ben dicevamo pochi stanti fa, di particolari zone di produzione. L'alice di Menaica è una tipologia di ittico più tradizionale nelle nostre zone. Ben sappiamo che l'alice è diffusa in tutto quanto il mare italiano per tutto l'anno. Invece le alici di Menaica, perché sono più tutelate? Perché lo troviamo semplicemente in alcuni periodi ben precisi, che va da maggio a luglio. Naturalmente non si ferma là la produzione, perché il presidio tutela anche la conservazione delle alici e che noi nel nostro palazzo le teniamo anche sotto sale e proponiamo diversi antipasti, tra cui le alici sotto sale servite su un gambo di sedano, della ricottina sempre del Cilento e un filo d'olio di extravergine di oliva. Simone, oltre a questo piatto che propone oggi il ristorante di Palazzo Dogana, quali sono le altre specialità della cucina? Qualsiasi specialità, diciamo soprattutto del panorama ittico nella nostra cucina, prevede l'utilizzo di pesce povero. Parliamo dello sgombro, del gamberetto bianco, parliamo dei totani piuttosto che di calamari tropicali, stiamo parlando delle alici di Menaica precisamente. Noi ad esempio con l'Esegutive Chef abbiamo proposto diverse forme di tortini con gambero bianco, risotto e filetto di sgombro messo sotto olio così con due fettine di limone che dà quella marinatura molto leggera. Poi facciamo anche delle fritture miste, soprattutto di totani, facciamo le seppie, che diciamo è un tipo di ittico che non si presta generalmente alla frittura, ma devo dire invece la verità, stiamo trovando delle ricette davvero squisite per quanto riguarda questi prodotti. Bene Simone, intanto mi riavvicino di nuovo al nostro chef per chiedere insomma qual è la cottura ideale per cucinare l'alice, l'acciuga e mantenere le proprietà nutrizionali. Sì, l'olio va mantenuto a circa una temperatura di 160 gradi e la cottura degli alici intorno non più di due minuti, così rimancono sempre fresche. E con i valori nutrizionali adatti e giusti per assaporare il piatto. Bene Simone, non abbiamo parlato del formaggio insomma che è stato utilizzato per questa ricetta. Ah, questo qua è praticamente una mozzarella semistagionata, una pasta filata leggermente affumicata e la cosa particolare è che proviene da latte di mucca. Utilizzare il latte di mucca anziché quello di bufala è semplicemente rimarcare una tradizione che era molto più importante della bufala nel Cilento. È un piatto che sta, un prodotto più che un piatto che sta scomparendo perché sappiamo bene che la mozzarella di bufala campana, DOP, ha diciamo delle emigrazioni anche verso il nord. Io la ripropongo perché voglio mantenere la tradizione legata al territorio in un piatto che ha queste origini davvero antiche. Quindi presso Palazzo Dogana tantissima qualità, prodotti d'eccellenza del territorio, soprattutto del territorio e il tutto in una splendida cornice che vediamo insomma alle nostre spalle che è ovviamente il porto turistico di Agropoli. Sì, a me piace utilizzare anche una piccola definizione, il chilometro zero, cucina chilometro zero. Noi anche le verdure cerchiamo di mantenere sempre una certa stagionalità nei limiti naturalmente anche della richiesta del consumatore. Già abbiamo parlato anche della scelta del pesce, il pesce povero naturalmente e a me piace legare, anche se è un posto di mare, questa tradizione che riguarda sia i formaggi ma anche i salumi che nel cilento tra l'altro abbiamo il suino bianco che è una nostra grande particolarità. Bene, Simone intanto il nostro chef ha cominciato con la cottura proprio del piatto, ecco vogliamo spiegare questo passaggio? Sì, praticamente la cottura prevede giusto due minuti in passaggio di olio extravergine di oliva a bello caldo questo perché preserviamo la consistenza della carne e del pesce all'interno del packaging che abbiamo creato ma soprattutto per mantenere inalterati i valori nutrizionali del prodotto ittico che sappiamo bene che le proteine soprattutto se sotto, se proposte sotto un calore o una cottura troppo eccessiva subiscono una denaturazione e quindi una perdita di valori. Bene, dal profumo direi che è un piatto eccezionale, ovviamente i telespettatori non possono godere di questo profumo però garantisco che è davvero magnifico. Bene, vogliamo riepilogare brevemente i passaggi del piatto effettuato oggi? Certamente, allora partiamo dal prodotto fresco naturalmente. Le alici vengono aperte a filetto, private della lisca, dopodiché si poggia una fettina della nostra mozzarella a pasta filata mediamente consistente e si poggia un altro filetto effettuiamo i passaggi in uovo e un po' di farina e del pane grattugiato intanto con olio già bello riscaldato a 160 gradi si immergono i filetti e si mantiene una cottura di circa 2 minuti, 2 minuti e mezzo si serve nel piatto con un filo di olio Simone, qual è il vino in abbinamento a questa ricetta? Allora, il vino che abbiniamo a questa ricetta è un vino spumantizzato del Cilento a base di fiano aglianico vinificato in bianco con un metodo che in Francia chiamano metodo chambeiro ma noi in Italia rigorosamente chiamiamo il metodo classico una rifermentazione in bottiglia e quindi uno spumante a tutti gli effetti Bene, per l'occasione tu hai preparato una performance con una tecnica particolare ci vuoi illustrare di che cosa si tratta? Certamente, sempre proveniente dalla Francia si chiama l'arte del sabrage praticamente noi apriamo la bottiglia di spumante con un colpo netto sotto il cercine della bottiglia, l'anello della bottiglia con una sciabola molto particolare che richiama un momento tra mitologia e storia risalente a Napoleone Bonaparte si dice che Napoleone dopo ogni battaglia sia vinta che persa ordinasse ai suoi soldati di aprire bottiglie di champagne con la loro spada procediamo con la tecnica del sabrage Ricordo a tutti i telespettatori che ovviamente Simone è un esperto sommelier e quindi oggi ci presenterà questa tecnica molto particolare La capsula deve essere tolta praticamente e la bottiglia è anche bella fredda Così ci assicuriamo che il gas disciolto all'interno del vino spumantizzato sia moderatamente attivo così nel momento in cui andiamo a stressare comunque la bottiglia con la sciabola non provochiamo troppa fuoriuscita del nostro meraviglioso prodotto Procedo e mi allontano un poco, va bene? Lasciamo Simone quindi alla performance Simone la parte finale della bottiglia è stata è un po' brutta questa parola però decapitata quindi dalla sciabola Sì, allora praticamente voglio spostare solamente la spada in una posizione ottimale praticamente il colpo non è un colpo brutale cioè è un soffio, una leggera spinta il lavoro lo fa l'anidride carbonica che sta all'interno del vino perché ci sta uno sviluppo di carbonazione pare a 6 atmosfere il triplo di quella di un'auto normale quindi la pressione fa sì che il taglio sia netto vedete io passo la mano sopra la bottiglia e non succede niente frantumazione non esiste cioè è un taglio veramente fatto con un colpo di bisturi E tutto questo ovviamente viene effettuato all'interno del ristorante Palazzo Dogana che ricordiamo anche è aperto nei giorni? Ad aprile saremo aperti tutti i giorni tranne il lunedì che è un riposo settimanale Bene, io direi di avvicinare insomma questo calice con questo buon vino al piatto che ha preparato il nostro chef Marco Parmiciano Lo ricordiamo a quale casa vinicola appartiene? Il vino spumantizzato scelto oggi è dell'azienda vitivinicola De Concilis ed è una base di fiano e ianico vinificato in bianco con metodo classico Grazie ancora al nostro responsabile del ristorante di Palazzo Dogana di Agropoli e grazie anche al nostro chef Marco Parmiciano e al nostro aiutante, indispensabile aiutante, collaboratore nonché aspirante sommelier del ristorante Palazzo Dogana di Agropoli A tutti buon appetito e appuntamento ad una prossima puntata sempre qui su Cilento Channel e con il programma Saporito Grazie a tutti